Il volto che vogliamo dare è quello della città attrattiva, città attrattiva per il turismo ma città attrattiva anche per i nuovi insediamenti di tipo produttivo. È con questo obiettivo che ha preso avvio la revisione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, un iter che passa dall'approvazione da parte della Giunta Comunale di Arezzo della pratica di avvio della redazione del piano operativo e strutturale, strumenti previsti dalla legge regionale. Definiranno nuovi ambiti dove la trasformazione di quello che c'è consente di dare vita a nuove attività di tipo produttivo. Mi riferisco soprattutto a quelle attività oggi non codificate che spesso svolgono i giovani in maniera più o meno estemporanea. Vedremo di dare la possibilità codificando questi utilizzi di renderli più produttivi possibili. L'aggiornamento del piano strutturale e la contestuale formazione del primo piano operativo sono stati affidati lo scorso marzo a un gruppo di lavoro multidisciplinare con urbanisti, architetti, geologi, esperti di mobilità, infrastrutture, paesaggisti, ingegneri ed esperti di diritto amministrativo. Il gruppo in questi mesi ha predisposto tutta la documentazione necessaria per dare avvio all'iter. Rendere più riconoscibili i luoghi, quindi superare la frammentarietà e la scassa legibilità che si ha quando si arriva ad Arezzo. In che modo? Ad esempio ragionando sulla legibilità delle strade, ad esempio ragionando sulla rete verde come strumento di percorribilità, sulle quali magari si muovono anche le biciclette e non solo le macchine. Quindi riconnettere dei luoghi, ricucire la città con alcune sue parti, ad esempio manicomio che è una parte che è completamente separata dal corpo urbano principale. Questo è un po' il tema di questo piano, ricucire all'interno di un perimetro che è sostanzialmente quello che si dà. Quindi il tema fondamentale è la riqualificazione, in questo senso. Tempi sono tempi, ci siamo dati dei tempi molto stretti per arrivare all'approvazione definitiva del piano prima della scadenza del nostro mandato. Quindi entro i primi dell'anno 2019 porteremo gli elaborati progettuali in adozione, poi ci sarà tutta la fase ovviamente del ricepimento e dell'osservazione da parte di tutti i prestatori di interesse, poi chiaramente ci sarà tutta la fase di conformazione dei nostri strumenti con il PPR, che è il piano paesaggistico regionale e quindi arrivare poi all'approvazione definitiva.